Voglio ripartire proprio in questo ping pong che tu suggerisci, da quello che diceva Merola, che lo dice poi governando un comune, diciamo anche di segno politico diverso dall'amministrazione centrale, ci dice due cose, nella pubblica amministrazione c'è un contesto di norme che ci permette di esprimerci con qualità, nella pubblica amministrazione c'è qualità delle persone, però non disconosciamo che poi tutto questo non arriva al cittadino, la crisi di fiducia del cittadino, quindi c'è un percorso di riforme di vent'anni che ha poi al di là dei colori politici una certa continuità e poi vedremo come la 150 in fondo evidenzia proprio alcuni aspetti che erano contenuti anche nelle riforme precedenti, ma proprio sul concetto che io voglio analizzare è quello della trasparenza, che poi sarà quello che può consentire veramente il salto di qualità alla pubblica amministrazione, ma c'è un gap di fiducia del cittadino, della gente nel sistema pubblico che non è basato, fondato poi sulla reale opera che la pubblica amministrazione svolge, perché poi quando vai a verificare sul campo, sulla customer satisfaction, sui singoli servizi sanitari, universitari, di pubblica istruzione, di sicurezza, di sociale che il nostro paese svolge, vedi che poi sulla soddisfazione sul singolo servizio il rating, la risposta è molto più alta, molto più positiva di quello che è invece il giudizio in generale sul blocco di pubblica amministrazione. Allora andare a capire perché questi centri di eccellenza, questa qualità che esiste nelle persone, questa qualità che esiste nelle norme con alcuni impianti che sono innovativi, anche copiati o tentati di essere emulati da altri paesi, non si traduce poi nella cinghia vera di trasmissione, che senza la fiducia del cittadino, del cliente, noi blocchiamo anche lo sviluppo economico, cioè parlo anche non solo di pubblica amministrazione funzionante, diventa sviluppo economico se interrompe il circolo vizioso in cui la qualità percepita dell'amministrazione pubblica italiana è inferiore anche a quella reale, è inferiore alla media degli altri paesi, quindi il nostro paese scivola automaticamente nelle classifiche internazionali che sono fatte non solo sui servizi per stati, ma molto sulla qualità percepita, e la qualità percepita è bassa, noi andiamo più in basso, attraiamo meno investimenti, attraiamo meno turismo, quindi nel turismo siamo ancora il primo paese come desiderio per essere visitato in tutto il mondo e poi siamo il quinto, siamo scivolati addirittura al quinto posto nonostante le ricchezze culturali, naturali, storiche che abbiamo, nella reale visita al paese, questo vale per gli investimenti, vale per il turismo e diventa pilla, diventa prodotto, allora se noi riusciamo a ricostruire la fiducia fra la pubblica amministrazione, i suoi utenti, clienti e automaticamente cambiamo il circolo vizioso diventa virtuoso, perché avendo più risorse si riesce a fare meglio amministrazione, più sviluppo, più servizi e questo si implementa, invece oggi andiamo al contrario, perché c'è questa qualità percepita così bassa, in capacità intanto di comunicare delle amministrazioni, che molte cose le fanno ma non le sanno comunicare, non si conoscono, hanno molti servizi che potrebbero essere fatti via mail, via web, via telefono e invece il cittadino è costretto, ancora sobbarcato, ancora di orpelli, quindi c'è una difficoltà a comunicare le cose che si fanno, c'è una percezione di non equità, di non equità perché ci sono ingiustizie palesi, alcune sul mondo imprenditoriale, cioè non c'è chiaramente corrispondenza quando tu hai creato oggi tutto il sistema imprenditoriale del fatto che se non è in regola con semplice pagamento di contributi o di imposte automaticamente non può incassare crediti che sono stati magari per anni fermi e sono la ragione del motivo per cui lui non riesce a pagare le ritenute o l'IVA su quelle stesse fatture, quindi c'è una non reciprocità evidente, quindi una iniquità che per andare a punire un 1% magari di persone ne colpisce 99 che operano correttamente e questo io ho portato l'esempio imprenditoriale ma vale in altri campi, quindi c'è ancora un po' di autoreferenzialità in alcune delle nostre norme di iniquità nei rapporti che potrebbe essere sicuramente un altro motivo importante e poi c'è il fatto che ancora molto della capacità che esiste della qualità della pubblica amministrazione è sviluppata su se stessa, sul funzionamento, sul rispetto di regole importanti, di vivere civile, ma non sulla parte percepita di servizio. Allora su tutti questi punti c'è una cosa fondamentale della legge 150 ma che valorizza tutte le riforme poi di questi anni che è la trasparenza che è alla chiave, al centro di molti dei passaggi, la ritroviamo trasversale al criterio di meritocrazia, al criterio di valutazione, nei principi, in molti dei principi nella contrattazione, in molti dei principi che sono contenuti nella 150, è quello della trasparenza, di dire ma c'è una cosa forse per cui non hanno funzionato tutte le riforme che alla fine il giudizio è dato sempre all'interno dell'amministrazione stessa, la valutazione è data all'interno e non può essere altrimenti come in ogni organizzazione dell'amministrazione stessa. Allora come facciamo ad avere il giudizio vero dei nostri clienti che sono anche i proprietari, i cittadini sono i clienti dell'amministrazione pubblica e quindi come i clienti dovrebbero avere sempre ragione per noi che siamo i loro serviti, ma sono anche i proprietari perché pagando le tasse sono gli azionisti, quelli che tengono in piedi e allora come facciamo? Siccome non ci sono norme oggi che consentano questa parità, allora se riusciamo a rendere trasparente, conosciuto, in modo anche eccessivo per un'azienda privata una trasparenza così diventerebbe negativa, ma dato che noi partiamo da un sistema che viene visto come nebuloso, che viene visto ancora come non equo, come ingiusto, è giusto che facciamo uno sforzo che all'inizio può sembrare eccessivo e rendiamo trasparente tutto quello che si può rendere trasparente, tutti i curricula, tutti i costi, tutte le assenze, tutte le motivazioni, perché nel sistema pubblico, una cosa che ci danneggia enormemente, noi abbiamo fatto per rendere questa trasparenza effettiva, non lasciarla sulla carta, in questo anno abbiamo fatto tutta una serie di monitoraggi, li continuiamo a fare, li andiamo sul sito del Formez, sono sul sito della funzione pubblica di Linea Amica che è il nostro programma di trasparenza di contatto con il cittadino, una serie di monitoraggi su tutti questi settori, sulle retribuzioni, sui curricula, sulla legge 104, perché i permessi della legge? Una legge giusta, una legge equa che ha messo il nostro Paese all'avanguardia sul sociale rispetto ad altri Paesi, perché consente giustamente l'assistenza a patologie gravi previste dalla legge 104, che però nel settore pubblico ha un utilizzo che arriva all'8-9%, nel privato all'1,5%, in alcune regioni arriva al 20%, in alcuni settori arriva al 22%, è chiaro che si diventa una forma di diritto non più del malato portatore di handicap, ma di chi nel suo giro di parentela ha un portatore di handicap, diventa quasi un diritto sindacale e che può arrivare alla fine a toccare tutti l'universo dei dipendenti pubblici, perché alla fine con l'età media che avanza giustamente, ognuno arriverà ad avere un anziano che arriva in patologia e quindi diventa un qualcosa che è poi uno spargimento, non è più il motivo per cui la legge era stata vista, pensata, ma diventa una fetta del pacchetto dei bonus che il dipendente pubblico, in quanto pubblico, pur usufruendo della stessa legge del privato, può usufruire in modo diverso, in quanto può prendere magari questi giorni di permesso in qualunque momento, senza un controllo come avviene nel sistema privato, che è più proprio un controllo di trasparenza.